Il polo cardiochirurgico resta a Chieti e i tempi previsti per il completamento della palazzina sono quelli fissati nella variante numero 2, ovvero da 10 a 12 mesi. Disegnare scenari diversi significa stravolgere la realtà dei fatti e alimentare una campagna elettorale fuori stagione, speculando su un tema delicato come il servizio sanitario. Non si fa attendere la risposta dell'assessore regionale Mauro Febbo agli attacchi del Partito Democratico. La nuova palazzina ospiterà cardiochirurgia e dunque obbligatoriamente anche emodinamica che non sarà trasferita a Pescara e poi cardiologia e chirurgia vascolare. Ma per fornire ulteriori prestazioni di eccellenza e dare contenute ad un edificio che comunque avrà spese di gestione elevate e che rischierebbe di produrre altrimenti uno sperpero inaccettabile di denaro pubblico, prosegue Febbo, si sta ipotizzando la collocazione al suo interno anche dell'IRCS, l'istituto di ricerca per studiare le malattie dell'invecchiamento, sulla base di un accordo con l'Università d'Annunzio. Soluzione necessaria, secondo Febbo, perché il trapianto di cuore sta scomparendo dalla pratica clinica a favore di nuove metodologie. La conferma dagli appena tre trapianti effettuati a Chieti nel 2008, uno solo nel 2009. Ciò significa che per un centro trapianti non ci sarebbe posto né a Chieti né tantomeno a Teramo. Ma questo non vuol dire depotenziare il presidio ospedaliero universitario di Chieti, che al contrario continuerà ad acquisire ulteriore qualità e prestigio.